Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di un libro che ho comprato proprio oggi stesso in un mercatino, che mi ha suscitato una certa curiosità. Il volume si chiama I Generali di Hitler, un titolo di un libro che conosciamo, esistente anche per altri volumi analoghi, con il sottotitolo Gli Juncker alla ribalta, autore W.E. Hart. Questa è un'edizione ovviamente italiana per Donatello De Luigi, editore, ed è una edizione, prima edizione stampata a Roma, prima edizione a Roma febbraio 1945. È specificato, stampato in Italia, titolo originale, Hitler General, traduzione dall'inglese di Spina Vismara. Questo facendo un attimo una piccola indagine, una breve indagine, su internet, non sono riuscito a trovare molto, anzi per niente, sull'autore, salvo ipotizzare che possa essere uno pseudonimo, ed è un volume che è stato scritto in inglese nell'anno precedente, nel 1944. Quindi rappresenta un testo molto interessante, non ho avuto modo di leggerlo, avendolo comprato solo oggi, ma che acquista, secondo me, un'interessante di grande spessore, come una sorta di instant book. Oggi ci sembra quanto mai normale poter trattare della guerra tra la Russia e l'Ucraina, anche tracciando delle biografie su personaggi che fino a pochi mesi fa potevano essere del tutto ignorati e del tutto ignoti ai più, salvo che magari per molti ancora lo sono. Però detto questo, è particolarmente curioso che guerra durante si possa non solo realizzare un'opera di questa portata per paesi che erano in guerra contro la Germania già da diversi anni, ma che vi possa potesse essere l'interesse e la capacità anche realizzativa di tradurne una edizione italiana e stamparla nel febbraio del 1945. Quindi ci dà, secondo me, un interessante spaccato di come all'indomani della liberazione di Roma, ricordiamo, la liberazione di Roma è avvenuta nel giugno del 1944, quindi diciamo dal giugno del 1944 al febbraio del 1945 non è che sono passati così tanto tempo, che vi potesse essere la capacità, la volontà, la realizzazione di un'opera di questo tipo che appunto poi potesse avere un mercato di riferimento, secondo me non è affatto scontato. Un libro che, come dicevo, tratta delle biografie, tratta ben nove biografie di comandanti tedeschi della Seconda Guerra Mondiale, la guerra ancora non è finita neanche in Italia, cioè siamo nel febbraio del 1945, quindi diciamo che sappiamo che il conflitto si sviluppa su quella che chiamiamo comunemente la linea gotica, quindi diciamo che non è che sta tanto distante da Roma la guerra, sì, saranno 300-350 km, però è sempre poco rispetto a quello che può sembrare un concetto bellico. Ebbene, questo volume, come dicevo, affronta nove generali, che ve li leggo, alcuni, cioè la maggior parte, viventi, solo pochi sono morti nel febbraio del 1945, primo tra tutti Romer che è morto pochi mesi prima, allora ci abbiamo il colonnello generale Vernon von Fritsch, il maresciallo Karl Rudolf Gert von Rundstedt, il maresciallo Erwin Johannes Rommel, il maresciallo Erlar Milch, il maresciallo Walter Enrich Alfred Hermann von Browich, il maresciallo Willem Keitel, il maresciallo Fedor von Bock, il grande emiraglio Karl Dönitz e l'ammiraglio Erik Röder. Quindi diciamo che abbiamo uno spaccato anche abbastanza variegato della realtà che vuole essere rappresentata con questo volume, un volume che tra l'altro sono 290 pagine, quindi neanche dire, sai, è una cosa cotta e mangiata che non ha richiesto un grosso impegno, un impegno di ricerca sicuramente all'origine, ma anche un certo impegno nella traduzione e nella realizzazione per l'edizione italiana. Io vi leggerei la prefazione, intanto sono 2-3 pagine scarse, che in qualche modo ci dà uno spiraglio, un'introduzione a un'opera del genere che, ripeto, secondo me è unica, nel senso che nel contesto del periodo ancora bellico, ancora in Italia, non parliamo di realtà lontane dalla guerra, la guerra ancora esiste, un buon terzo del paese ancora sotto il regime nazifascista, quindi in qualche modo il tocca da vicino, magari anche alcuni di questi personaggi. Quindi sfilano in queste pagine i generali di Hitler, sono quelli i cui nomi abbiamo udito così spesso alla radio e abbiamo letto nei giornali, soprattutto al tempo della invasione delle barbariche orde teutoniche nelle belle contrade d'Europa e in Africa settentrionale. apparivano circondati come da un'aureola di invincibilità accompagnati dalla fama, pur questo effetto di ben dosata propaganda, di una sapienza guerriera senza possibilità di confronti, con l'inesperimentata strategia del giovane esercito americano, con le possibilità del rinnovato esercito inglese. E quindi in qualche modo qui si fa anche un po' di propaganda prodomopropria. Visti da vicino, nei profili che ne traccia con Esperta Arte e il biografo, il nostro documentato autore, essi perdono gran parte di questo alone di leggenda, ma acquistano un preciso rilievo che ce li mostra uomini tra uomini, lupi ai loro simili, nelle competizioni della carriera e nell'acquisizione del favore del loro padrone, esseri spesso miserabili di una corrotta umanità. Si chiamano i generali di Hitler, ma in verità, tranne rare eccezioni, sono i generali della Reichwehr, passati per ragioni varie o nella illusione di opporsi al prepotere delle truppe del Partito Nazionalsocialista o per egoistiche ambizioni personali a servire la causa del Führer. Da Rommel, stratega di pura marca nazista, senza seria preparazione nell'arte della guerra. Ripeto, eh. Da... Tra l'altro Rommel è scritto Roem, quindi sembrava impizzare fosse Roem. Da Rommel, stratega di pura marca nazista, senza seria preparazione nell'arte della guerra. A generali del calibro di von Rusted, di cui la cultura bellica e la specifica competenza sono incontestabili. Sono questi gli appartenenti alla antica casta militare prussiana provenienti dal ceto nobiliare degli Juncker, adusati dalla nascita a non giudicare di alcun problema del loro paese o della politica dei partiti, se non sotto il profilo militare. Pochi di essi sono usciti dal loro piccolo mondo esclusivo per occuparsi di questioni più generali, concernenti la vita politica, economica o sociale della Germania e meno ancora dell'Europa. Unica eccezione forse, von Brachwitz è studioso di problemi sociali e lontano nelle sue concezioni dalle ideologie naziste. Perciò ciò che sorprende nella lettura di questo caratteristico libro è di constatare come i generali tedeschi formino tutti una casta politicamente impreparata, il cui valore è tutto estrinseco, appoggiato sul culto della tradizione, sul vuoto formalismo di rapporti non improntato a vera grandezza. L'esistenza di una cotale casta chiusa, separata e inaccessibile a estranei, è per noi italiani inconcepibile. Quindi questo, non so se l'hanno adattato alla realtà italiana o è una prefazione originale, però è interessante come poi si vada anche a inserire all'interno della società italiana. Nemmeno sorprendente è constatare la profonda miseria morale di questi uomini che stanno trascinando alla più clamorosa delle disfatte una nazione che era potente, agguerrita e ben preparata come la Germania. Potente, agguerrita e ben preparata come la Germania in base a cosa? Non capisco, sono fautori del depauperamento della Germania potente e agguerrita, ma sono lo stesso nazismo che l'ha resa tale. Quindi diciamo, sembra che sono loro responsabili e hanno trovato una Germania florida e l'hanno portata alla miseria. Diciamo che la Germania del 1933 non è che fosse così florida, era un sacco di problemi. Quindi diciamo che se si vuole affondare, se si vuole far passare il concetto che sono stati i militari a far affondare la Germania, diciamo che la Germania ha un suo processo evolutivo molto più dinamico e bisogna fare un discorso dal 18 in poi. Vabbè, comunque, non esula dal concetto di questo libro, però mi sembra un po' un giudizio molto portato a caricare sulle spalle dei generali che sicuramente avevano delle responsabilità importanti, però colpe e responsabilità che non sempre gli appartenessero. A parte la slealtà con la quale questi generali hanno abbandonato i loro principi per servire il dittatore pur disprezzandolo e proponendosi talora di tradirlo, essi hanno dimostrato di essere destituiti di ogni valore morale e umano. pure qui, sì, una parte è condivisibile e l'altra risente molto dell'elemento emotivo di dover buttare fango in maniera così un po' alla buona. Hanno dimostrato come non basti la competenza tecnica a compensare la carenza di valori spirituali e su questo possiamo ragionare. neppure il più alto genio strategico prevale di fronte alla mancanza delle qualità morali che sono naturalmente inerenti alla personalità umana. Su questo sono d'accordo. Questo volume, crediamo, costituisca una interessante lettura. Ogni capitolo, pur rigorosamente condotto su dati biografici accertati, forma quasi una vita romanzata. Tante e così varie sono le vicende, a volte drammatiche, a volte grottesche, che si alternano nella carriera di questi personaggi. Nomi che erano divenuti familiari al nostro orecchio ricompaiono improvvisamente sotto i nostri occhi ed episodi dimenticati rivivono in una realtà più precisa e sconcertante. Le ragioni di improvvisa sostituzione negli alti comandi di strane destinazioni, di dure destituzioni, ci sono rese note in una logica concatenazione di fatti. Sfilano questi generali del sinistro in bianchino di Monaco e molti di essi sono già entrati nel regno delle ombre. I supestiti, rimasti gli fedeli, dopo la strage determinata dall'ultimo attentato, si affannano a resistere disperatamente alla catastrofe che sta per travolgere il loro paese. Essi, per una inesorabile quanto giusta nemesi bellica, dovranno assistere all'esito tragico del cumulo di colpe, di barbarie, di atrocità commesse dalle loro selvagge armate e apprenderanno sul loro stesso territorio che cosa significhi e di che lacrime grondi e di che sangue il concetto di terra bruciata dà un implacabile nemico. Mi sembra, ripeto, un testo importante, un testo che potrebbe anche essere oggetto di altri miei video. Diciamo che i capitoli mi sembrano un po' lunghetti per essere oggetto di video in maniera integrale, cioè leggere così, però diciamo che lo prendo come uno spunto da ragionarci sopra, mi sembrava comunque interessante potervi proporre l'esistenza, io non sapevo neanche che esistesse un testo del genere, lo ammetto, mi è capitato di comprarlo proprio oggi e diciamo non me lo sono fatto scappare perché mi sembrava mi sembrava curioso, non fosse altro appunto per l'elemento cronologico, l'elemento di quando è stato realizzato e tra l'altro pubblicato anche in Italia, quindi diciamo questo era un elemento aggiuntivo di come guerra durante, la guerra ancora esiste, ancora è viva nella carne della società italiana, beh, un testo del genere rappresenta comunque un elemento di grande importanza anche sotto il profilo prettamente culturale, sociale, morale anche di un paese che in qualche modo si sta evolvendo e che appunto sta ancora con le cicatrici anzi con ferite aperte e lo sarà ancora per un bel po'. Detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao! Ciao!